Ancora un altro anno a Piacenza con una squadra rinnovata, competitiva, come te la immagini questa nuova stagione? Sì, un altro anno a Piacenza, mi fa molto piacere, è stata costruita secondo me una squadra molto buona. Ma chiaro che sulla carta le aspettative sono molte, però dovremmo lavorare sodo in palestra per cercare di creare veramente una squadra in tutti i sensi. Cercheremo di fare bene, dovremmo far meglio dell'anno scorso perché comunque in Regolo Razziso abbiamo vinto due partite, poi siamo stati bravi a qualificarci per la Challenge, poi siamo andati in Cev. E niente, credo che la squadra ci sia, poi dove potremo arrivare non lo so, credo che dovremmo riuscire a migliorare partita dopo partita e poi sarà il campo a dirci quello che saremo capaci di fare. Tu sei un monumento del nostro volley, un fenomeno di quella generazione che ha vinto tutto, purtroppo l'unica cosa che non siete riusciti a vincere è la medaglia d'oro olimpica. Tu hai vinto argento, bronzo, non ultima le Olimpiadi di Londra. Se dovessi dare un consiglio ai ragazzi di Blengini, magari sulla base della vostra esperienza? Diciamo che, come hai detto tu, non avendo mai vinto l'oro non ho il consiglio perfetto per vincere l'oro perché non ci siamo mai riusciti. Un consiglio che do è che sicuramente devono stare tranquilli, non sentire troppa pressione, giocare con troppa fuga. L'Olimpiadi si gioca ogni due giorni, comunque è un giorno di riposo dove puoi pensare, liessarti un attimo. Quindi cercare di dare il massimo, soprattutto nel girone, per arrivare nella posizione migliore per incontrare magari la squadra un pochino più debole quando ci sarà il dentro e fuori. E' chiaro che dare un consiglio non è facile perché comunque ogni Olimpiadi è una storia a sé, però io credo che la squadra ci sia. Ci siamo, abbiamo tutto, abbiamo fisicità, abbiamo tecnica. Vedremo se almeno quest'anno, almeno quest'edizione dell'Olimpiadi saremo anche fortunati. Due domande e poi ti lasciamo andare. Tecniche, palleggiatore, un ruolo chiave in una squadra di palla a volo. Travizza lo avresti portato? Perché Giannelli è bravo, però è molto giovane. Travizza comunque, tu ci hai giocato anche insieme. Travizza è sicuramente un palleggiatore che si può meritare alla nazionale, ma credo che la scelta di Chico Blengini sia stata fatta che Travizza assomiglia a Giannelli comunque. Nel senso che forse Giannelli è un po' più bravo nel palleggio, però sono tutti due alti, quindi si assomigliano. Ha portato un palleggiatore più esperto, che è sottile, diverso, che gioca in modo diverso. Credo che la sua scelta sia stata questa. L'altra su Zaycev, meglio da opposto o meglio da schiacciatore? Perché ormai è la domanda del momento. Sì, lì ci sto capendo poco anch'io, sinceramente, perché comunque è iniziato da schiacciatore questa World League e poi è rifinito a fare l'opposto. Non lo so, bisogna vedere quello che si sente Ivan dentro, che cosa vuole fare. Chiaro che all'inizio un po' di difficoltà le troverà da schiacciatore, ma io vedo che ha avuto più difficoltà in attacco che in ricezione dove mi aspettavo che le avesse. Però credo che lui possa fare tutte e due. Ci vuole del tempo, bisogna vedere se la nazionale ha fretta e sta giocando meglio da opposto, lo faranno giocare meglio da opposto. Ma io chiedo che quando si inizia un progetto bisogna andare avanti con quello. Grazie mille, in bocca al lupo. Crepi, ciao. Grazie mille.